Abbiamo sbagliato completamente l'approccio perché se pensiamo che si può giocare solo su una metà campo si perdono tutte le partite, poi è vero che le partite ci vincono con l'attacco, sono straconvinto di questa cosa, i ragazzi lo sanno, e dobbiamo anche trovare il piacere di attaccare di squadra e l'abbiamo fatto, però imbarazzante la nostra difesa nei primi due periodi. Al di là dei netti meriti di una squadra molto forte, di un giocatore banca, nettamente di categoria superiore, è un peccato per lui ma anche per la palacanese italiana che giochi ancora in questa categoria qui perché è un giocatore che ha tanto talento, tante soluzioni, tanta personalità. Abbiamo avuto una reazione dopo l'intervallo perché eravamo sotto di 17, però è anche vero che secondo me era impensabile che non avessimo una reazione. Non era scontato che questa reazione ci portasse ai due punti, alla fine sono arrivati grazie alla migliorazione di tutti quanti i giocatori, e di questo è importante. Dobbiamo assolutamente migliorarci perché giocare 20 minuti non è sufficiente, soprattutto con squadre come lo Yadran, che hanno qualità, che giocano bene assieme. Prendiamo i due punti, la grande reazione dei due quarti, ma c'è un lavoro da fare in palestra, anche nelle nostre teste, oltre che nelle nostre gambe importanti. Penso e spero che i ragazzi lo abbiano capito.